Oggi è un giorno triste per la città di Venezia e per l'isola di Pellestrina. È venuto a mancare Sergio Tagliapietra Ciacci. Le nostre condoglianze da parte del Comune di Venezia e della comunità di Pellestrina vanno alla famiglia. Sergio è stato un grande campione del Remo ma soprattutto un esempio di vita. Ha insegnato fino a pochi mesi fa l'arte della voga alla Veneta e l'educazione sportiva ai più giovani presso la remiera di Pellestrina. È stato un grande campione del Remo, ha vinto molte legate storiche, ha partecipato alle Olimpiadi e al Paglio delle Repubbliche Marinare. Ciao Sergio, ci mancherai tanto.